Ciao a tutti ragazzi, bentrovati qui su Battlespear Central, sono Luca, oggi video inedito con una delle liste del Pro Tour portate da un gruppo dei nostri amici italiani. Noi avevamo già registrato la decklist perché li avevamo già incontrato di nascosto in tempi non sospetti. È una lista estremamente particolare, pensate che gioca tutti i colori viabili nel gioco al momento, quindi BSS02 format, quindi solo 5 colori. E la carta principale è SMUG, infatti la lista si chiama proprio PENTA SMUG. Adesso do la parola ai ragazze che ve la sanno sicuramente illustrare meglio di me. Lasciate un like, commentate, diteci cosa ne pensate, condividete e soprattutto iscrivetevi. Andiamo alla lista. Zitto, vai cura. Ciao a tutti. Allora, ho detto il mazzo che porta. E io ho il vero atto sassi che porta il Pro Tour, PENTA SMUG. Prima carta è SMUG. Ovviamente. Effetto molto forte, target di Beldegor, ci fa scontare tutto. Vedrete che giochiamo un sacco di spell che si scontrano di due, quindi è praticamente il motore del mazzo. SMAG per chi non lo conoscesse è la X dell'Expansion 7. Esatto. Che magari è carta che nessuno gioca, però chi ha cambiato completamente il mazzo, volendo giocare un arcobaleno, diciamo, lui ci sconta tutto, ci fa rampare, volendo. E poi vedremo con Naumengard il core che rampiamo, lo possiamo già utilizzare il turno dopo. E alle volte anche pescare una carta. Allora, l'idea del mazzo è quella di giocare più o meno le carte più forti di tutti i colori, quindi l'obbligo è 4 walker-huntman, che praticamente il mazzo vuole sempre andare secondo, quindi il turno uno migliore possibile è questo. L'alternativa è se l'altro gioca solo una carta, settare una burst e giocare SMUG per pescare uno. 4 Beldegor perché la recursion è sempre bella. 4 scopo all che scombano molto bene con Beldegor, sono scontati da SMUG e sono molto anche forti con Naumengard quando refresciamo, che abbiamo tutti i colori a disposizione della riserva. 2 Grim of Fail, praticamente l'unica carta gialla del mazzo, ci aiuta a cercare magari l'aspetto di cui abbiamo bisogno, un high shield, una dream bomb, insomma una delle magie che possono utilizzare. Ha la cosa molto forte che con tre core è un 5.000 e anche lei è a vocabella, è un target di Beldegor. E quindi ho 2 Daina che sono la chiusura contro i mazzi che diciamo o refresciano o saltano molti pezzi o insomma tanti difensori. 2 Six Aegis, carta meravigliosa che ci permette di riprendere oltre a Naumengard o un Daina. Perché ha l'effetto di l'obbligosco. Sì, praticamente quando la giocava in Summoned lei riprende uno spirit di ogni colore dalla Discard. Quindi il caso migliore sarebbe uno Skopoul, una Grim of Fail, un Bellegor o un Naumengard o un Daina. Inoltre ha un effetto carino al terzo livello che quando attacca uccide un 3.000 per ogni colore rappresentato in gioco. Quindi anche quegli sman che fanno da jolly, cioè non contano come tutti i colori ma contano come il colore che vogliamo. Spesso possiamo andare a uccidere 2, 3, 4 pezzi a seconda di come giocava la garcia. E poi l'altro motore del mazzo che è Naumengard che è una carta rana. Non ha bisogno di presentazioni, probabilmente è la carta che ha fatto il gioco, secondo me. Che se risolta è fortissima perché ci fa pescare 3 e fare 3 corse. Se non risolta ci fa girare tutto il mazzo perfettamente. E quindi per l'avversario è sempre una carta da pelare. L'unico modo efficiente di risolverla è farla tornare in mano ma poi tornerà. L'unico nexus che giochiamo è Volcanic Canyon che ci serve per filtrare il mazzo. Abbiamo la Recursion di Bellegor e la Recursion di Six Ages. Quindi comunque spesso le carte che mettiamo nelle discard sono risorse vere e non semplicemente filtraggio. Veniamo alle spell che sono 20. 4 ice shield sono d'obbligo. 4 star bless per pescare. 4 turn prison. Molto forti quando ci attacca. Cioè il mazzo si basa molto su fare vantaggio sull'attacco dell'avversario. Quindi l'avversario si attacca e magari facciamo uno scope all, para, flash, turn prison e piega un altro. Abbiamo risolto 4 attacchi con 2 carte fondamentalmente. Magari entra Bellegor 5 attacchi. Dream Bomb. Sempre 4 perché potendola scontare è una carta fortissima. che ci permette anche di giocare a una vita, magari facendo Dream Bomb e Ice Shield dalla mano. Anche questa carta la conoscete. Queste sono probabilmente le spell più forti del gioco e quindi banalmente le giochiamo tutte. Spelle Rosse sono 3 Bourne Force e una Volcanic Break. Volcanic ci sta. Abbiamo poche cose che usano il Soul Core. Risolve Joker, risolve l'Aquila, risolve varie cose. Risolve Elk con la carta che dà partito al mazzo. Triple Bourne Force perché essendo sparita adept alla fine va bene contro Agro, va bene per risolvere qualche Nexus. Bene, buona fortuna per il Pro Tour. Grazie.